Il complemento di prezzo indica invece stima o valore commerciale e si esprime al genitivo soltanto nelle determinazioni generiche come tanti, quanti, pluris, minoris. Questo tipo di complemento ricorre con verbi che esprimono stima in senso economico, valere, costare, comprare, vendere o affittare e simili. Ecco un esempio. Illa villa pluris constitit. Quel casale costò moltissimo.